Nel sentiero si alternano la casa, la scuola, il parlamento e i luoghi di ritrovo di questi misteriosi abitanti del bosco, mentre la guida spiegherà anche i visti dei folletti. Perché, attenzione, comportatevi bene e rispettate l'ambiente, proprio perché i folletti sono dispettosi e riconoscono subito gli amici del bosco. A San Martino la gente si gode le feste della primavera e dell'estate, ricche di svaghi. C'è addirittura una parete attrezzata per le scalate e Nico, il responsabile, si diverte a portare a spasso i ragazzi con i suoi asinelli. Ma torniamo a Urbania, un chilometro dalla città dove imponente si mostra il barco, già luogo di Caccia dei Duchi, frequentato da poeti e umanisti della corte. Il monumento presto diventerà la sede dell'impara l'arte, con laboratori di ceramica, incisione e pittura aperta a tutti. Qui è allestita un'accogliente aria attrezzata per camperisti e dal verde del parco all'ombra del bel campanile si ammira il borgo di Peglio, sentinella della vallata a 540 metri d'altezza. Siamo fra le dolci colline metaurenzi segnate da querce e tigli che spesso ospitano fra le radici il pregiato tartufo. Nel cammino per l'alta valle la collina ci accompagna salendo dai campi dorati fino al castello di Peglio. Di origini romane il borgo è dominato dalla torre del Girone, da dove si gode un vasto panorama dell'Appennino fino ai confini di regione. Subito ci viene incontro la luminosa Urbino, capitale del Ducato, con il suo palazzo dalle mille suggestioni, opera di Federico da Montefeltro, perfetta figura del rinascimento. Dai torricini lo sguardo spazia come il respiro universale della città ideale di Piero della Francesca e di Raffaello. Si scende quindi a Fermignano, industriosa città già sede di cartiere e lanifici, che conserva il ponte e la torre sul fiume. Secondo la tradizione, questo è uno dei luoghi della storica Battaglia del Metauro, 207 a.C., che vide la vittoria dei Romani sul cartaginese Asdrubale, fratello di Annibale. Sì, l'acqua da sempre incide queste valli, come vicino a Fermignano dove il fiume Candigliano forma la gola del Furlo, riserva naturale e luogo privilegiato per sentieri ed escursioni, ricco di flora e fauna protetta, dove vola la possente Aquila Reale. Risalendo il Candigliano si incontra subito a Qualagna, una delle capitali del pregiato Tartuto, sede di una fiera famosa. Poco dopo, seguendo l'antica strada a Flaminia per Roma, si scoprono i palazzi e la possente rocca di Cagli. Ritorniamo nella valle del Metauro, fiume più ricco di storia che d'acqua. Pianura e collina si susseguono accoglienti, fino ai monti di confine, mentre ci vengono incontro campi colorati mossi dal vento. La cascata del Sasso, la più estesa dell'intera regione, ci aspetta a due passi da Sant'Angelo in Vado, la romana Tifernum Metaurense, ricca di storia, splendidi mosaici e altra capitale del Tartufo. Immersa tra le colline Sant'Angelo in Vado è stata capitale della Massa Travaria, patria dei pittori Fratelli Zuccari e di Papa Clemente XIV. È un piacere scoprire le sue vie signorili, i nobili palazzi e le importanti chiese. Il centro storico presenta monumenti di varie epoche, dal Trecentesco Palazzo della Ragione alla Torre Civica, alla Settecentesca Cattedrale. In giro per i vicoli e le piazzette, passando dalla Piazza del Comune, si incontrano Santa Caterina delle Bastarde, la Cinquecentesca Santa Maria degli Angeli, Santa Maria Extramuros e l'imponente Chiesa di San Francesco. Ma è soprattutto il Tartufo che ha fatto conoscere la cittadina metaurense. Usato per creme deliziose, tagliato fine sulle tagliatelle e nei crostini, il re Tartufo vi aspetta ottobre in una rinomata fiera, per essere gustato in tutte le salse e starete davvero bene. Caro viaggiatore, se proverai a fare un giro da queste parti, il tuo percorso incontrerà accoglienti borghi medievali, come Mercatello sul Metauro e la sua Castello della Pieve, regali preziosi di un territorio dove l'uomo non è stato in bordo. Mentre in Natale i presepi come quello di Santa Chiara di Urbania, allestito con scenografiche miniature dei palazzi ducali, sono ancora il simbolo diffuso della religiosità popolare. E' certamente la Befana di Urbania che rappresenta la tradizione più forte e sentita. Ogni anno, dal 2 al 6 gennaio, c'è una grande festa nazionale. La mitica Befana Burga ha anche il suo sito internet www.labefana.com, dove riceve migliaia di letterine dai bambini di tutto il mondo. A Urbania la Befana ha preso casa. E' proprio una bella festa per i bambini, con tanti balli, danze, giochi e divertimento. Mentre qui si radunano centinaia di Befane che arrivano da ogni luogo. La Befana scende anche dalla Torre Civica, sopra la Folla. Questo è proprio un momento speciale per lanciare le caramelle ai più piccoli che l'attendono entusiasti. Tanta gente, turisti, visitatori, camperisti, curiosi e famiglie intere vengono a Urbania, perfino dall'estero, a trovare la Befana. La buona vecchina riceve i bambini e a tutti dispensa doni e un po' di carbone per ricordare qualche Maracchella. Per questo vi aspettiamo nella piccola città di Urbania, l'antica Casteldurante, dove storia, tradizione, gastronomia e soprattutto il calore della gente vi faranno proprio stare bene. Statene sicuri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.